Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Allora il trend, 11 regioni e 2 province da zona bianca, in particolare l'occupazione dei letti in terapia intensiva è scesa a 8,4%, cioè sotto la soglia di sicurezza del 10%. Quella dei reparti ordinari è a 18,5%. Coronavirus. Il bollettino del 24 febbraio segnala 46.169 nuovi casi e 249 decessi in Italia. Il tasso di positività scende al 9,5%. Continua a calare l'occupazione ospedaliera, sono 839 le persone attualmente ricoverate nelle terapie intensive e 12.125 i degenti in area non critica. In Puglia il bollettino regionale segnala 3.652 casi e 9 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Tarantino attestati 443 nuovi contagi. Al momento nella regione sono 83.307 le persone positive al covid, di cui 44 ricoverate in terapia intensiva e 689 in area non critica. Il nostro posto è al fianco della Nato, ma è necessario uno sforzo per aprire un dialogo con la federazione russa. Così il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato il drammatico evolversi degli eventi che stanno accadendo in Ucraina. E' chiaro che questo è un momento dove al di là di chi ha torto e chi ha ragione, purtroppo bisogna precisare da che parte si sta. Noi siamo parte della Nato, parte dell'Alleanza Atlantica, senza sé e senza ma. E questo momento ovviamente è un momento difficilissimo perché molte delle cose che sono accadute in questi anni rischiano di essere vanificate. Noi dobbiamo fare uno sforzo complessivo per stare al fianco degli Stati Uniti, al fianco dell'Unione Europea, della Nato, per riaprire il dialogo con la federazione russa e col popolo russo. Si tratta di un momento nel quale il popolo russo deve anche avere la possibilità, attraverso le sue leadership, di dire la sua, perché il progetto di pace universale al quale stavamo lavorando rischia di essere travolto da questo momento in cui, ripeto, le immagini ricordano tempi che avremmo voluto dimenticare per sempre. La Puglia partecipa da protagonista al bando Ecosistemi dell'Innovazione Territoriali, un progetto previsto dal PNRR per il quale sarà stanziato quasi un miliardo e mezzo di euro. Lo scopo è di creare 12 sistemi dell'innovazione a livello territoriale, di cui 5 nel mezzogiorno. Ogni ecosistema avrà una struttura di hub che svolgerà la funzione di coordinamento, e SPOC, ovvero reti universitarie, statali e private o enti pubblici e privati che si occuperanno della ricerca. Gli ecosistemi agevoleranno la trasformazione digitale e tecnologica del processo produttivo delle imprese del territorio all'interno di un'ottica sostenibile e attenta alle pari opportunità. Questa conferenza stampa è anche il segno che lo stato di emergenza si sta per esaurire e che la nostra voglia di combattere pacificamente per le nostre visioni è intensissima. E quindi lo facciamo simbolicamente partendo da un accordo con le università, perché la Puglia, regione universitaria, non esclude nient'altro. Dentro una regione universitaria ci può stare tutto il resto, viceversa, tutto il resto. In una regione che non abbia al cuore la formazione, non abbia al cuore la ricerca scientifica, e non abbia al cuore la volontà di rispondere a quei siti più difficili, è difficile che possa esistere. Provate a immaginare un luogo dove c'è grande progresso economico, però nessuno studia, nessuno impara e nessuno fa ricerca. Non è possibile. È un progetto unitario delle università pugliesi proposto dall'Università di Bari e presentato all'Università di Bari insieme alla regione, che prevede il coinvolgimento di molte aziende e che vede un impegno nelle linee del PNRR per 167 milioni. È uno sviluppo tematico che riguarda la salute dell'ambiente e dell'uomo. Temi centrali per lo sviluppo di una regione che vuole avere un ruolo unitario nella ricerca per la pace nel mondo. Il tasso di mortalità per alcuni specifici tipi di tumore è superiore alla norma nel comune di Taranto e nelle città poste sotto vento al sito ionico. A confermarlo un nuovo studio pubblicato dalla rivista Sustainability dal titolo provocatorio Taranto's Long Shadow, l'ombra lunga di Taranto, prodotto da Roberto Cazzollagatti, professore dell'Università di Bologna, e dalla dottoressa Alena Velicheskaya dell'Università Statale di Tonsk. Sono stati analizzati i tassi di mortalità degli ultimi dieci anni per 15 principali tipi di tumore segnalati tra i residenti a Taranto di otto comuni limitrofi, Acquaviva delle Fonti, Casa Massima, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Putignano, Noci, Castellaneta e Massafra, collocati all'interno di un cono immaginario nella direzione del vento principale dal vertice della zona industriale tarantina e delle due province coinvolte, quella ionica e quella barese. Ripartirà il 3 marzo l'Acciaieria 1 dell'Exilva di Taranto, ferma dallo scorso dicembre. Conseguentemente sarà richiamato al lavoro il personale necessario. Questo è quanto ha comunicato ai sindacati metalmeccanici Acciaierie d'Italia, aggiungendo che dalla prima decada di marzo, con la ripartenza dell'Alto Forno 4, anche l'Acciaieria 2 riprenderà funzionari a pieno regime. Andato di scena stamattina nella città vecchia di Taranto all'interno del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, il seminario su pesca sostenibile, protezione e ripristino della biodiversità marina, che ha illustrato i risultati del progetto Sama 19, realizzato con fondi regionali da diverse associazioni del settore. Durante l'iniziativa presentata alla ricerca sviluppata dalla cooperativa COISPA Tecnologia e Ricerca, oltre che il bilancio della campagna di smaltimento dei rifiuti accidentalmente raccolti in mare durante le attività di pesca svolte in collaborazione con la Chima Ambiente di Taranto, che ha coinvolto 41 imbarcazioni delle cooperative Tarantine, o Pistella Maris e Nuova Marionio. Sì, le attività di pesca negli ultimi 20 anni sono state messe molto in discussione dalle politiche sia degli enti sovranazionali legati alla FAO sia dall'Unione Europea. L'approccio che è stato sempre seguito è stato quello della riduzione delle imbarcazioni e su questo poi a cascata si hanno effetti negativi rispetto all'indotto, ai mercati e di fatto si è favorita l'importazione del prodotto dall'estero, che solitamente, e non è detto che sia per forza di cosa migliore del nostro, anzi, nella maggior parte dei paesi extra-way le norme sono molto meno stringenti delle nostre. Dal punto di vista delle giornate di pesca si è proceduto a una riduzione degli ultimi anni del trend e questo aspetto per noi è una limitazione, perché è un po' una risposta semplicistica a un problema che invece è molto complesso, perché la biologia marina è complessa, ci sono interrelazioni di attività umane non solo della pesca, dai trasporti alle attività estrative, alle attività di ricerca di idrocarburi che sono molto impattanti. Da questo punto di vista il nostro tentativo, i nostri studi, le nostre ricerche con ISPA, con l'Alleanza delle Cooperative Italiane, con questi progetti europei, è il tentativo di avere un approccio più complessivo, globale, che metta in relazione le attività della pesca fatte in un modo corretto, privilegiando alcune scelte dal punto di vista delle specie non giovanili, oppure delle aree di rispetto rispetto alle coste, in rispetto delle aree di narseri dove le specie si possono riprodurre e dare quindi un numero complessivo di adulti maggiore. Questo aspetto è prima di tutto da studiare, da verificare, e noi lo vogliamo studiare e verificare, lo abbiamo fatto con la collaborazione dei pescatori e non vedendo i pescatori come un problema, ma come parte della soluzione del problema. Vibonese Taranto ripartirà dal 51esimo minuto mercoledì 9 marzo alle ore 14.30, da così come decretato dal presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Il match era fermo sullo 0-0 quando un grosso banco di nebbia aveva costretto l'arbitro a sospendere l'incontro. Nel frattempo non arrivano buone notizie dall'infermeria Rosso-Blu. Calica Maneo, uscito per infortunio nella gara col Catanzaro, ha riportato un trauma distrattivo del bicipite femorale destro, mentre per Vincenzo Barone la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione parziale preinserzionale della fascia plantare. Per lui si prevede un lungo periodo di stop. Questa era l'ultima notizia, dalla redazione di Cosmopolis Media è tutto, al prossimo notiziario.